Anche stavolta il presidente della regione Luciano D'Alfonso non si è tirato indietro, ha voluto come si dice metterci la faccia e rispondere non solo agli esponenti di centrodestra che l'hanno tacciato di dire cose non vere e strumentali ma ha voluto soprattutto ribadire l'impegno concreto della regione in merito ad alcuni progetti sul Lanciano prima fra tutti quello sulla riqualificazione dell'area dell'ippodromo Villa delle Rose conosciuto ormai come Central Park e che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito politico. Io sono venuto per ribadire tre cose, come abbiamo fatto per il potenziamento dello stadio, come abbiamo fatto per la pista ciclabile già in uso, già in esercizio per i bambini, le mamme e le nonne di Lanciano, allo stesso modo abbiamo adottato impegno con atto amministrativo per realizzare Central Park a favore di Lanciano, dei lancianesi e della potenza distrettuale di questa città. Voglio anche assicurare che il milione e due di cui noi ci siamo fatti carico combinatamente con la città di Lanciano che ci dovrà mettere 300 mila euro sta in corrispondenza dei 61 milioni di euro per le piste ciclabili nel nostro masterplan regionale. Rendo anche certo che la denominazione sarà oggetto di una scelta della scolaresca di Lanciano con il sindaco che validerà questo strumento. E poi, e non è un modo di dire, non è uno scherzo, per rendere certo ai due contestatori e protestatari che si farà questo parco, rendo certo a loro che riserveremo un'area di qualche decina di metri quadrati per realizzare qui Casina delle Querce 2.0. Uno dei due ha in gestione una casina, per rendere certo che lo faremo, faremo anche qui uno spazio per la ristorazione leggera. Il lavoro svolto in questi 23 mesi di amministrazione, ha detto D'Alfonso, è sotto gli occhi di tutti cosa hanno fatto, quelli che mi hanno preceduto e che hanno governato per tanti anni. La nostra attività e lo stare vicino ai territori non sono connessi alle campagne elettorali. Noi in 23 mesi e 15 giorni da quando governiamo Regione Abruzzo, che mi piacerebbe chiamare Ragione Abruzzo, a Lanciano abbiamo prodotto due risultati più degli altri, due più evidenti sono l'adeguamento dello stadio di Lanciano alle ambizioni sportive e calcistiche del Lanciano Calcio e naturalmente la pista ciclabile che nei fatti è un parco lineare per i bambini, le mamme, i nonni, per l'incontro delle generazioni. C'è stata una terza sfida lanciata a Regione Abruzzo riguardante Central Park che ci vede non d'accordo ma ci vede deliberativi. Noi abbiamo adottato una delibera per adottare quell'intervento, quel progetto, quell'ambizione. Perché lo abbiamo fatto? Perché ho in stima personale Pupillo, sindaco di Lanciano e presidente della provincia, Pino Valente, i collaboratori di Pupillo che sono in giunta? No, lo abbiamo fatto poiché c'è la considerazione, c'è la stima, ma c'è il riconoscimento del ruolo di città distretto di Lanciano per chi vive dentro le mura e per chi viene da fuori le mura ogni mattina per ragioni sanitarie e ospedaliere, per ragioni di giustizia, per ragioni formative e educative, per ragioni di tempo libero, per fidanzarsi qui. Lanciano corrisponde ad una domanda di qualità della vita di 60-70 mila persone ed è per questa ragione che noi facciamo questo investimento, come compensazione per la funzione di snodo che Lanciano ha donato a tutto il territorio attraverso per esempio Tua, ieri Sangritana. Su questo fronte voglio rendere certo che l'intervento si fa con le caratteristiche di bellezza, di funzionalità e di coinvolgimento dei bambini e della popolazione. La denominazione, intuita dal sindaco Pupillo, va sottoposta a scelta da parte dei bambini poiché i bambini dovranno essere i manutentori, quelli che adotteranno per fare in modo che non venga uccisa dal vandalismo che a volte nelle città la sera prende di mira opere di questa fatta. Circa la sanità la scelta è stata molto chiara. Risorse, scelta prioritaria, il conferimento di un valore fondamentale alla potenza di erogazione di servizi sanitari di Lanciano per tutto il territorio. Ma anche la scelta che abbiamo fatto per esempio per la Fondo Valle Sangro è una scelta di 190 milioni di euro che ulteriormente colloca Lanciano come una città di riferimento comprensoriale. Tutto questo si chiama buona amministrazione, consapevolezza, serenità nello scegliere gli interventi di priorità. Ma questo ci deve essere riconosciuto. Poi la lotta politica la si fa. L'importante è che non si sia scorretti. E l'importante è che nella scorrettezza, cercando di fare più uno per sé, non si ritardi il lavoro di Lanciano, la crescita, il suo investimento, il suo sviluppo.